Ciao a tutti, io sono TheWizardOfDos19 e oggi, a grande richiesta, mostrerò un trucco molto semplice per aprire e usare il vecchio Internet Explorer in Windows 11. Prima di continuare ti avviso che sconsiglio di navigare con questo obsoleto browser, visto che non dispone più degli aggiornamenti di sicurezza sui principali sistemi operativi, quindi è molto vulnerabile. Se sei sicuro di continuare, allora esegui la seguente procedura. Cerca opzioni Internet dal menu Start. Vai nella tab Programmi, dove è presente la sezione Gestione componenti aggiuntivi e clicca sul relativo pulsante. Si aprirà una schermata con tutti i componenti aggiuntivi. In basso a sinistra c'è il link Ulteriori informazioni su estensioni e barre degli strumenti, che puoi cliccare. Ed ecco Internet Explorer 11. In questo caso Microsoft non ha aggiornato il codice per impedire l'avvio di Internet Explorer, e aprire invece Edge. Molto probabilmente questo bug verrà corretto in futuro, o almeno è quello che spero. Infatti, se si prova ad aprire Internet Explorer dalla relativa cartella in Programmi, verrà avviato Edge. Esistono altri trucchi per poter aprire Internet Explorer in Windows 11, ma perché farsi del male? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, mettete mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale e smettetela di usare questo browser. Internet Explorer PIRO 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 MIRO